cosa fai tu sei un uomo che non deve chiedere mai tanto ti aspettai tantissimo ti desiderai ma alla fine veniste vennei mattina si vedo si amore aspetta io volevo sapere se vieni senti volevo sapere volevo sapere se questo era gabardi oppure cashmere ora te lo spiego io rosalia apri chi è mio marito ma allora sei sposata eh si e con chi e con mio marito e proprio con lui dovevo sposarti apri rosalia apri presto nascondete se ti trova qui finisce a schifio a schifio cosa vuol dire ti ammazza voi allora bisogna sposarsi bisogna nascondersi dov'è che mi nascondo mi nascondo dove è qui mi nascondo dove è da là è qui no 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 ne andiamo a vedere dove è qui ecco lì qui 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 resto qui apri mannaggia Vengo Eccomi Un'è, un'è Ma che? Il tuo amanto, un'è con una sconnistica Ma calmati Saruzzo, ti giuro, ti giuro che non c'è nessuno C'è, c'è, c'è Sono sicuro che c'è Una telefonata anonema ricevete Saruzzo, ti giuro che sono sola Un'è, stufetoso Non c'è Eppure io sono convinto che qui qualcuno c'è Puzza di amante, sento Amore, ma come potevi pensare Che io potessi già dire Un uomo virile Peddo comattia Tu, tu lo sai che io sempre fedelissima fui Ah, ho capito tutto I manichini, quattro erano Ora cinque sono E in mezzo a queste cinque un uomo ci sta Oh no Io l'ammazzo L'ammazzo Mizzega, e quanti amanti avevi? Passionale sono No